buonasera a tutti ragazzi buon questo video parleremo ovviamente del 97esimo episodio di angry shark evolution e col nostro kraken e ora terrorizzeremo un sacco di gente e non solo questo lo porteremo anche a livello 7 perché a livello 6 vediamo buona visione eccolo qua il nostro cefaloide il kraken forza vediamo cosa possiamo fare possiamo anche volare me l'ero dimenticato arriviamo a 200 e già lo portiamo a livello 7 questo è il 97esimo episodio credo poi vado a vedere penso di sì non lo so se c'è zombie tsunami dopo angry shark evolution forse c'è un altro gioco ma non so quando beh poi si vedrà e lo vedrete voi muore che non vuole morire altro golden rush forza dai 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 scendiamo 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 vado 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 perfetto 27.000 già abbiamo fatto ma non so se che Charzilla c'era A proposito di Charzilla Sapete che esce Godzilla 3 Ovvero Godzilla contro Kong La scimmia star King Kong Ma mi chiedo King Kong è molto più piccolo di Godzilla Come ha fatto a crescere Ovviamente non è uguale le sue dimensioni È qualche metro in meno Godzilla si sa che cresce Perché è un mostro radioattivo Ma King Kong Sembra come un gorilla normale Non è tanto mostruoso Come Godzilla Che cresce all'infinito Forza Dai che arrivo a 100.000 Grazie a tutti Dai forza Nooo ma guardate No c'è quel mostro Dobbiamo prenderlo Illuminite ragazzi E' uno scuolo cristallo Per lo di più Che assomiglia a un cristallo Dove credi di andare? No Vieni qui tu Vieni qua Sciarzilla No Ma quando è veloce Uccidiamo tutti Con le nostre tentacolate Dai 100.000 sono arrivati Già E' già distrutto una pila di barche Il nostro Kraken No Vieni qua Sciarzilla Non mi scappi Tu vieni qui Un altro Kraken Luminite Dice 101.000 punti 117 Dai che possiamo fare Anche di più Beh 122 Già qualcosa in più A 200 Arriviamo a livello 7 200.000 Lì c'è il Liopleurodon 150 Quasi Che ne mancavano altri 5 No Non ho fatto 150 Ah L'ho fatto 152 Ce ne sono pescatori Così Me li divoro Ne un sol Balcone Con questi Tentacoli Wow Wow, 170 abbiamo fatto! Là c'è Alan! Nessi! Che è il Mega Kraken! E non muore! E non muore! No! Vabbè che non c'era nessuno! Dai che sono quasi a 200! E porto il Kraken! 190! No! Un po' si imblocca! Un po' si imblocca! Un po' si imblocca! Un po' si imblocca! casa allora andiamo da questa parte vieni qui tu 200 ma non vedo ancora il livello 7 forse dobbiamo fare ancora di più forse dovremmo fare ancora di più illuminito e c'era lo scuolo cristallo potrebbe anche chiamarsi questo mostro affondiamo la barca vieni qui tu questo qui è lo scuolo che avevamo una volta lo scuolo abissale credo che non ci sia nessuno forse 300 dovremmo fare ragazzi vieni qui ghiottone ah io ho un ghiottone moby vieni qui tu vieni qui vieni qui vieni qui vieni qui vieni qui vieni qui no 300 devo fare ragazzi sicuro per il livello 7 e andiamo vieni qui 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 e 300 ragazzi la risposta del livello 7 siamo a 277 dobbiamo mangiare molto per fare punti vieni qui vieni qui vieni qui vieni qui vieni qui vieni qui l'ho fatto l'ho fatta grossa l'ho fatta grossa vieni qui vieni qui Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Così vuoi da guerra Dai 300 Beh eccomi qui 300 e dov'è Questo livello 7 Beh ancora non ci sono Arrivato 300 Grazie a tutti 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 Sono andato alle Hawaii E finalmente ho raggiunto il livello 7 Aspettiamo la morte Grazie a tutti Grazie a tutti Sono di nuovo qui Grazie a tutti Ciao a tutti Grazie 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 a tutti